Avete mai pensato che una ciabatta potesse scatenare una tempesta? Nel cuore della casa del grande fratello, un innocuo oggetto diventa il fulcro di un acceso confronto. Ma cosa è realmente accaduto tra Rosanna Fratello e Rosy Chin? Scopritelo in questo video e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like se siete curiosi di svelare i misteri del GF. La casa del grande fratello è stata teatro di una lite scoppiata come un fulmine a ciel sereno. Beatrice Luzzi, lontana dalla casa, ha lasciato il campo libero a Rosanna Fratello, la cantante che nei giorni scorsi si era già scontrata con Beatrice e Fiordaliso, la scintilla che ha acceso la miccia, un malinteso con Rosy Chin, accusata ingiustamente di voler lanciare una ciabatta contro Rosanna. Credete che Rosanna abbia realmente percepito una minaccia o è stato un malinteso? Rosanna, confidandosi con Marco Maddaloni, ha espresso il suo disappunto. Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta, la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese. Parole che hanno raggiunto le orecchie di Rosy. Provocando la sua immediata reazione. Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi aspetto di sentire la cinese in modo dispregiativo. Mi sono solo tolta le scarpe per ballare. Pensate che l'uso del termine lacinese sia stato dispregiativo? La situazione è precipitata quando la fratello ha accusato Rosy, Fiordaliso e Anita di aver formato un'alleanza contro di lei, intensificando l'atmosfera già tesa. Voi fate comunella contro di me. Volete far ricadere i problemi su di me? Ha esclamato Rosanna, innescando ulteriori scontri. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del mondo del gossip. La tensione ha raggiunto il culmine quando Anita Olivieri è intervenuta in difesa di Rosy, sottolineando come l'atteggiamento di Rosanna fosse discriminatorio. Intanto, Fiordaliso si è unita a Rosy in giardino, rivelando che Rosanna le aveva accusate di bullismo. Una situazione così complessa e intricata richiede ora un'analisi approfondita. È realmente avvenuto il tentato lancio della ciabatta? Questo è ciò che cercheremo di capire insieme. Una semplice ciabatta è diventata il centro di un tornado emotivo nella casa del grande fratello. Ma cosa è realmente successo? Vi lascio con questa domanda e vi invito a condividere nei commenti le vostre opinioni e teorie. Alla prossima!